Musica Hola ragazzuoli Benvenuti in questo nuovo video su Vitamods Ragazzuoli ci andiamo a vedere come salvare e moddare i nostri veivoli Allora ragazzuoli siamo in una sessione ad inviti Dopodiché dobbiamo mettere il rientro Questa volta lo dobbiamo mettere al bunker di campagna Io ho il bunker di campagna va bene qualsiasi altro bunker Dopodiché ragazzuoli ovviamente dobbiamo avere il nostro veivolo Allora su questa cosa innanzitutto vi dico subito di non prendere un veivolo grande Perché? Perché si potrebbe anche moddare ma è molto più difficile poi salvarlo Quindi innanzitutto provateci con un veivolo piccolo Ad esempio ragazzuoli io ci ho provato anche con il laser Però con il laser non riuscivo a portarlo Ad esempio l'RO88 è idem molto molto più difficile Quindi provate con qualche veivolo prima piccolo come questo qua Che infatti andremo a moddare Ok? Poi dopodiché potete fare anche la prova con l'aiuto anche di un amico Con quello grande Poi abbiamo bisogno ovviamente anche Del veicolo da cui portare le modifiche al nostro veivolo Un amico con anche lui un veicolo Non importa se sia moddato Ringrazio tantissimo S.T.G. Dario Dopodiché possiamo iniziare Allora il nostro amico entrerà nel suo veicolo Dovrà semplicemente avviare la gara sprint Ok? Poi dopodiché ragazzuoli noi accettiamo l'invito del nostro amico E ragazzuoli solita parte Partiranno 30 secondi Quando in basso a destra arriverà a 3 secondi Il nostro amico dovrà spammare X Quindi semplicissimo come le altre volte Dopodiché ragazzuoli noi andremo in una schermata nera Facciamo doppio tasto PS Partecipiamo da Anawak Aspettiamo il recupero dettaglio della sessione Dopodiché ragazzuoli Primo messaggio X Secondo messaggio X Terzo messaggio X Ok? Quindi accettiamo completamente tutti i messaggi Dopodiché ragazzuoli rispondiamo in sessione di nuovo Quindi touchpad E andiamo su ucciditi Ok ragazzuoli Quindi fino adesso tutto vale Fate attenzione a questa parte Adesso dobbiamo premere tasto option E dobbiamo andare ad avviare le attività blu che ci sono sulla mappa Ok? Quindi lo trovate in alto a sinistra Avviamo l'attività con quadrato X Appena arriveremo nella lobby Appena ci darà la possibilità di uscire Premeremo ovviamente cerchio X Quindi fino adesso veramente easy Ok? Responderemo in sessione A questo punto ragazzuoli Dobbiamo premere il touchpad Andare su veicoli Riportare il veicolo al deposito Ok? Dopodiché ragazzuoli Dobbiamo diventare CEO Andare su veicoli CEO E chiamare il buzzard Dobbiamo andare in un posto specifico Perché dobbiamo spawnare ovviamente con un aereo Ok? Quindi a questo punto ci rechiamo in questa location qua Che sarà anche vicino al nostro Los Santos Custom Vicino al Los Santos Custom Ok? Andiamo col buzzard fino a lì Appena arriviamo lì col buzzard Dobbiamo semplicemente ragazzuoli Richiamare l'aereo o il veicolo che vogliamo moddare Io lo vado a richiamare Aspetterò il messaggio in alta a sinistra Che mi arriva ovviamente il veicolo in mappa Dopodiché scendo dal buzzard E mi vado semplicemente a suicidare Ok? Quindi appena mi vado a suicidare ragazzuoli Come le altre volte Spawno poi direttamente con il veicolo moddato Ok ragazzuoli Adesso arriva la parte ovviamente divertente Dobbiamo portare questo veicolo Allo Santos Custom Però innanzitutto il nostro amico dovrà abbandonare la sessione Quindi appena abbandona la sessione Ragazzuoli siamo a posto Adesso dobbiamo portare il veicolo allo Santos Custom Ok? Ecco perché vi ho consigliato questo posto Anche perché è vicino allo Santos Custom Ok ragazzuoli Io sono riuscito a portarlo Dopodiché Dobbiamo scioglierci da CEO Non appena siamo allo Santos Custom Quindi ci sciogliamo da CEO A questo punto ripremiamo di nuovo il touchpad Andiamo su Motorcycle Club Fondiamo il Motorcycle Club Touchpad di nuovo Presente il Motorcycle Club Andiamo su Incarichi del Club E avviamo l'attività in gabbia Ok? Andiamo ad avviarla Dopodiché si aprirà a questo punto magicamente La serranda dello Santos Custom L'aereo entrerà dentro Ovviamente ci sarà soltanto un'immagine buggata Perché gli aerei non possono entrare allo Santos Custom Ma uscirete all'interno dello Santos Custom Riparate il veicolo se ve lo chiede Dopodiché ragazzuoli Su questo veicolo ho dovuto mettere gli esplosivi Per fare una modifica Poi ovviamente ci sono varie possibilità Voi al massimo come ho fatto io Mettete la bomba a distanza Non è un problema Non succede nulla Ma dovete fare per forza una modifica Per poter salvare il vostro veicolo Se no non vi funziona nada de nada Se riparate soltanto il veicolo Ricordate che non vi funziona nada de nada Io a questo punto scendo dal veicolo Quindi ho già praticamente salvato il mio veicolo Scendo Esco fuori dallo Santos Custom A questo punto ragazzuoli Per fare la prova Ovviamente se il veicolo è salvato Veicolo lo riportiamo al deposito A questo punto lo richiamiamo E se arriverà il nostro veicolo Salvato e moddato Ovviamente sarà a posto E infatti ragazzuoli come vedete Mi ha moddato e salvato il mio veicolo Ragazzuoli se vi è piaciuto questo video Lasciate un bel like Condividete Iscrivetevi al canale E noi ci vediamo al prossimo video Bella